Siamo in compagnia per commentare appunto questa giornata estremamente interessante sui mercati di Gianluca Codagnone di Fidentis. Buon pomeriggio e grazie per essere con noi. Buon pomeriggio. Senta, oggi e insomma negli ultimi giorni il discorso rimane legato ai rendimenti dei titoli sovrani. Lei come interpreta questi rialzi perché sono in netta contraddizione con tutto ciò che ci ha detto Powell negli ultimi due giorni? Beh intanto il livello dei tassi era forse diciamo in maniera razionale troppo basso in generale. Dopodiché il dibattito che c'è in questo momento è sul fatto che oltre a avere monetary policy che è estremamente loose ci potrebbe essere, ci sarà un ulteriore stimolo americano e quindi si passerà da monetary dominance a monetary e fiscal dominance insieme e quindi diciamo c'è un famoso dibattito adesso su YouTube anche tra Summers e Krugman sul fatto che ci possa essere come si dice too much stimulus e quindi i tassi stanno, ci sono degli operatori che pensano che l'inflazione possa ripartire e quindi i tassi sono risaliti. Francamente le rotazioni di mercato che vediamo che sono state verso il settore bancario e diciamo il reopening dell'economia e sono coerenti con uno scenario di accelerazione dell'economia. Secondo me questo è da vedere perché comunque chi detta l'agenda porta un po' il virus e quindi vedremo se è così o no. Sicuro il mercato dei bonds sta dando un segnale che in presenza di quello stimolo il livello dei tassi che viene richiesto è più alto e quindi vedremo. No assolutamente sì, poi dall'altro canto siamo in un'area di mercato toro già da un bel po' di tempo soprattutto per quanto riguarda gli Stati Uniti. Ecco questo mercato toro può sopravvivere con i rendimenti sovrani in rialzo e una possibile l'inflazione, ecco poco sopra il 2%. Quello dipenderà molto dagli earnings, cioè bisognerà vedere se in presenza di rialzi dei tassi sia reali che nominali gli earnings delle società tengono il passo. Questo ripeto dipende molto dal virus perché la velocità di crescita dell'economia dipende da quello fondamentalmente. Non so, diciamo il mercato in questo momento è posizionato in maniera abbastanza ottimistica sul fatto che ci sia un'accelerazione del PIL eccetera eccetera. Vedremo se ha ragione. Poi come sapete il mercato quando si corregge ci mette 40 secondi a correggere un errore quindi per adesso è così. Io francamente penso che in questo momento sia tutto un po' apprezzato per la perfezione nello stock market. Quindi penso che non sono molto preoccupato di un ritorno dell'inflazione. Penso che quello non vedo arrivare. È certo che invece se guardi alle cose che succedono come GameStop o a questo tipo di comportamento dei penny stocks negli Stati Uniti il livello di frenziness del mercato sembra abbastanza elevato. Assolutamente sì, intanto parlando di GameStop sicuramente era uno degli argomenti che avrei voluto toccare durante la seduta odierna. GameStop in rialzo del 42%, ieri ha chiuso in rialzo del 103%. Lei trova una logica dietro queste fluttuazioni che riguardano sia GameStop, GameStop ovviamente in primis, ma poi anche BlackBerry ed AMC in questo caso? Se trovo una logica? Potremmo di avere una risposta breve, no. Quindi può essere descritta come una folia degli investitori in retail o meno? Insomma sì. Nel senso che da qualsiasi punto la si guardi su questa società anche a provare a fare delle valutazioni e non un pricing, ma delle valutazioni del business sottostante è difficile arrivare a questi valori qua. Impossibile direi. Quindi sono robe spiegabili da un punto di vista nazionale. Poi esistono, succedono, si sa anche come vanno a finire di solito. E come mi chiedevo invece se è possibile, ovvio che gli Stati Uniti sono molto diversi rispetto all'Europa proprio a livello anche di strumenti finanziari se vogliamo, ma c'è anche una cultura più elevata di trading proprio, di livello della società, fa trading chiunque, potrebbe essere replicato in questo caso GameStop in Europa secondo lei o meno? Sì, ovviamente i numeri sono diversi. Nei paesi asiatici è ancora più spinta la gamification del trading da molto tempo. Negli Stati Uniti un po', diciamo che in maniera così organizzata come quello che si è visto fare su Reddit, che mi ricordo io è la prima volta che succede, è questo che è un po' diverso, nel senso che c'è stato una specie di coordinamento spontaneo. Così, in questa maniera proprio io non me ne ricordo una uguale. Ecco, diciamo 8 nel real estate, cioè ci sono sempre state, non è che sono nuove. Sì, assolutamente sì, questo è chiaro. Poi nel frattempo però stiamo notando anche una rotazione di mercato piuttosto importante, non è solo negli Stati Uniti ma anche in Italia. Questo potrebbe essere una buona occasione per fare degli acquisti sul tech? Bella domanda. Diciamo, l'epidemia ha spinto, ha accelerato dei trend che erano già in corso e quindi c'è stata una spinta verso il tech. Perché con tutti gli state home order abbiamo tutti dovuto usare le piattaforme tecnologiche per fare anche cose che si facevano prima di persona e questo è un punto. Se poi le aziende quotate che sono coinvolte nel tech valgano o meno i prezzi che abbiano un valore adeguato al pricing di mercato, questa è una cosa un po' più complicata da dire perché si vedono anche lì, dipende da azienda a azienda, si sono visti anche lì degli IPO di cose già esistenti, prezzati con dei concorrenti già maturi, prezzati a livelli abbastanza inaspettati. Quindi non so, singolarmente sicuramente ci sono delle cose che hanno un senso ma anche cose che non ne hanno. Quindi non so, non farei un discorso di settore tech, non tech, farei un settore di aziende singole, farei un discorso di più sulle aziende singole se posso. Ecco invece le volevo chiedere, siccome senza alcun dubbio lei ha parlato anche di bolle e così via che abbiamo visto in precedenza, quale è a suo avviso il ruolo delle banche centrali nell'asset pricing? Ovvero quanto c'entra la liquidità che ci forniscono le banche centrali con i prezzi che stiamo vedendo sull'equity e non mi riferisco agli Stati Uniti, mi riferisco anche in Europa perché, ad Europa scusate, perché effettivamente all'aiuto della BCE c'è stato senza alcun dubbio? Insomma avere una condizione di politica monetaria lose sicuramente aiuta, consente anche dei business che prima magari sarebbero falliti, di stare in piedi perché si consentono dei finanziamenti a tassi più bassi e inevitabilmente aumenta il valore degli asset e come una marea tira su anche delle cose che non dovrebbero avere, non dovrebbero avere gli andamenti che hanno. È un po' come appunto una marea che tira su un po' tutto, dopodiché certe cose quando finiranno di esserci queste condizioni così favorevoli sia fiscali che monetarie, certe cose rimarranno ai prezzi a cui sono adesso e certe altre no. Per cui sì, aiuta come, influenza come, dopodiché per le banche centrali è sempre un po' un dilemma. Nessuna banca centrale si prende la responsabilità di chiamare una bolla o di fare qualcosa se si pensa che ci sia una bolla per farla finire. Non è mai successo e non succederà mai, credo. Bisognerebbe agire in un'altra maniera, non solo sui tassi, ma anche su, per esempio, le condizioni di credito, piuttosto che proprio gli standard creditizi per evitare che questo succeda. La verità è che è difficile vederlo questo. Dopo tanti anni siamo ritornati ai mutui con il 95% del valore della casa accettato come mutuo, per cui si vede che la lezione del 2007 non è servita, non è il 2008. Quindi si ritorna un po', è un po' un ciclo che si ripete ogni volta, sembra che non si impari mai. Ecco, volevo spostarmi velocemente verso le banche, in particolar modo quelle italiane, oggi con una performance abbastanza missa, per esempio Mediobanca cede quasi il 2%, invece intesa guadagna più del 2% e a questo proposito abbiamo visto tantissimi matrimoni quest'anno, anzi scusate il 2020 tra le banche italiane, lei si aspetta, come dire, fusioni ulteriori e non solo, è preoccupato per troppi non performing loans e come siete posizionati per quanto concerne il comparto bancario europeo ma soprattutto italiano? Allora lì c'è il problema delle cosiddette moratorie, ci sono un sacco di crediti che sono stati messi in moratoria o per legge o per volontà delle banche, circa 300 miliardi, quindi su questi 300 miliardi di crediti si è come sospeso il giudizio e lì bisognerà vedere a fine pandemia, quando l'economia ripartirà, quanti di quei crediti potranno finire in NPL. diciamo che per quello che abbiamo stimato noi la reddittività delle banche potrebbe essere depressa per un paio d'anni e questo paradossalmente, anzi senza troppo paradosso, potrebbe spingere aggregazioni perché bisognerà ridurre i costi e il modello di business bancario tradizionale che è già sotto pressione da anni dall'online banking e quindi credo che diffusioni se ne vedranno prima localmente e poi cross border, non penso che cross border le vedremo tanto presto, però potrei sbagliarmi ma non credo, penso che prima ci sarà un consolidamento in ogni mercato nazionale che non sia consolidato, per esempio in UK è difficile, sono già quattro banche, però prima si vedranno concentrazioni locali e poi eventualmente anche dei cross border, credo. E tutto sommato questo è positivo, giusto o meno? Beh serve a far tornare i costi a dei livelli compatibili con ricavi dell'attività bancaria tradizionale, cioè margini di interesse e commissioni che sono sotto pressione per sbagliate ragioni e quindi bisogna ridurre i costi, cioè anche le banche hanno, se si guarda la top line delle banche fa fatica a salire, anzi scende direi, quindi devi far scendere i costi, un'industria matura almeno quella del sistema bancario tradizionale e quello sportello diciamo. Ecco allora invece vorrei toccare un altro argomento abbastanza importante, siamo qua in Italia in attesa del nuovo DPCM, sicuramente il Covid-19 ha completamente scombussolato sia l'economia ma anche i mercati almeno all'inizio, poi come abbiamo già detto, ribadito più volte sono state le banche centrali ad intervenire, tranquillizzare i mercati, la stabilità finanziaria e non solo, ci sono stati dei stimoli importanti sia a livello fiscale che a livello monetario. Intanto per quanto riguarda gli ultimi aggiornamenti ovviamente oggi c'è stato un videoconferenza tra governo e regione in vista dei prossimi provvedimenti per l'emergenza Covid-19, all'incontro hanno partecipato il ministro per l'autonomia Maria Stella Gelmini e quello della salute Roberto Speranza con il nuovo esecutivo di Mario Draghi effettivamente ci si tiene di questa relazione più forte tra regioni e governo. Le volevo chiedere come secondo lei hanno affrontato i singoli paesi europei questa emergenza Covid-19 nella maniera giusta, nella maniera sbagliata? È normale che magari dopo un anno, un anno quasi e mezzo dopo la pandemia, più o meno le misure sono quello che sono? Penso che in Europa e in generale nel mondo occidentale sia stato affrontato in maniera completamente sbagliata a parte pochissimi paesi. Penso che non si sia voluto imparare dalla reazione che hanno avuto non solo dei paesi asiatici come il Vietnam o la South Corea o Taiwan, ma anche come altri paesi tipo l'Australia o Nova Zelanda. In Europa abbiamo avuto forse Finlandia e Norvegia che sono state, diciamo, brave a gestire l'epidemia, ma questa cosa di gestire l'epidemia a seconda delle risorse ospedaliere e quindi permettere che il contagio arrivi fino al punto in cui poi travalica gli ospedali, ed è già successo due volte, adesso succederà probabilmente la terza se non stiamo attenti, ovviamente fa vedere che non è una gestione dell'epidemia che va bene, ma nei fatti lo fa vedere, non è una questione nemmeno di opinioni, quindi francamente il fatto di non aver usato sistemi di test tracing e isolation dei contagiati e di non aver preso questa cosa di questa epidemia sul serio, diciamo, ma ogni volta giocare con i contagi fino a farlo arrivare a un certo punto, che poi ovviamente viene ogni volta superato, perché il virus ha un andamento esponenziale, come tutti avranno capito, questo ha penalizzato tutta la crescita economica del 2020 e secondo me peserà anche nel 2021. Quindi spero che adesso tutti i governi europei prenderanno più su serio questa cosa, l'epidemia, e introdurranno tutte quelle misure necessarie che non sono solo il lockdown, perché il lockdown da solo non serve a niente, poi riapri e riparte come prima. Dopo che hai fatto scendere i contagi a un livello accettabile, devi avere un sistema di tracing e test isolation in piedi che ti permetta di mantenere i casi che siano un numero basso piccolo a piacere e che siano solo cluster locali e non un'epidemia sparsa in maniera omogenea sul territorio nazionale come adesso. E si vede l'esempio, a Auckland piuttosto che in Australia trovano quattro casi e chiudono una città, se non riescono a tracciare tutto. E quindi bisogna prima arrivare a un numero di casi bassi e poi essere aggressivi su ogni cluster. Finché non si fa questo andremo avanti a aprire e chiudere, però non so quanto sia furbo. No, questo sicuramente non è furbo, l'abbiamo già notato perché ha danneggiato più settori, e poi comunque anche c'è stato il problema con l'avviso nell'ultimo momento che altrettanto... No, no, ma quello siamo d'accordo, cioè non si gestisce così, no? Non è che prima tu dici che apriamo tutto e poi tre ore prima dici no scusate ho sbagliato, anche perché la cosa per cui tu non fai riaprire tutto si vedeva al mese prima, quindi su quello non discuto neanche. Però lei stava parlando anche dei tracing, il che vuol dire che si tratta anche di un livello di digitalizzazione forse un po' più elevato anche con l'aiuto delle app, in primis citato la Cina e quindi non posso non menzionare che... Sì, devo dire, per esempio il Giappone che ha mantenuto i casi sempre bassi ha un tracing quasi completamente manuale, lo chiamiamo shoe ladder tracing, hanno tantissimi tracer che fanno quello che viene definito backward tracing sui cluster e sono tutti tracing manuale a più di 150.000 persone al tracing, lì sono scelte, non è che per forza ci voglia un'applicazione, certo l'applicazione è una cosa migliore perché è l'unica cosa che va veloce come i contagi, però nelle segnalazioni, però ha bisogno di un take up di almeno il 50-60% della popolazione per funzionare, altrimenti anche l'applicazione dà risultati scarsi, cioè ci vuole un take up alto, bisognerebbe averla tutti immuni, diciamo, perché funzionasse. Guardi, le chiedo ultimissima domanda e poi andiamo in passo obblicitaria, le chiedo una valutazione sulla campagna vaccinale, stiamo vedendo dei ritardi piuttosto significativi di AstraZeneca, poi ovviamente anche loro non avranno fatto bene i conti, senza alcun dubbio, hanno altre priorità che potrebbe essere giustamente la Gran Bretagna e ecco, la volevo chiedere un parere sulla campagna vaccinale, per esempio negli Stati Uniti sono stati vaccinati tutte le persone del settore dei servizi che parte da camerieri a qualsiasi altro tipo di lavoro, come valuta la campagna vaccinale europea ed è anche, perché è anche un game changer per i mercati ma soprattutto per l'economia? Allora lì si sono viste cose molto diverse, intanto i paesi che sono più avanti come Israele, Stati Uniti e Gran Bretagna bisogna anche dire che sono partiti prima, cioè quasi tutti un mese prima dell'Europa o di più, quindi sono più avanti anche per quello. Poi la seconda cosa è che tutti i produttori di vaccini stanno accusando tagliare la produzione, J&J non ha ancora iniziato a consegnare ma rispetto agli importi contrattualizzati ha già detto che taglierà, per cui per me non è strano, è una roba che si è sempre vista in tutte le consegne di questi tipi di medicinali, vaccini, si è sempre visto l'imprevisto perché poi fare i vaccini non è come fare le pizze o la passata, ogni tanto ci sono degli intoppi produttivi, soprattutto quando poi certi vaccini hanno in comune dei componenti intermedi che tutti cercano, per cui c'è poco da fare. D'altronde i contratti sono fatti con le clausole di best effort per i produttori, proprio perché si sa che ci possono essere questi problemi. Dopodiché sulle strategie vaccinali di chi ha iniziato come l'Italia a fare gli operatori sanitari, oppure come la Germania che ha iniziato prima dalle case di cura, dalle case di long term care facilities, o a chi ha vaccinato prima persone ad alto contatto, lì si fanno delle scommesse. Tutti i vaccini sono stati studiati per ridurre la mortalità, non il contagio. Anzi, fino a prova contraria, adesso ci sono dei dati provvedenti da Israele, ma guardando tutti gli studi che escono ci sono dei problemi su quegli studi, che il vaccino riduca il contagio è solo un secondary point. Il primary endpoint di ogni vaccino era di ridurre la mortalità. Quindi Israele per esempio ha iniziato a vaccinare tutte le persone a più alto rischio morte, cioè quelli da 70 anni in su. L'Italia ha scelto gli operatori sanitari per cercare di preservare il sistema sanitario. La Germania ha fatto come Israele. Ci sono strategie diverse. Francamente vaccinare le persone ad alto contatto e quindi sperando che il vaccino blocchi il contagio è una scommessa, ma non ci sono evidenze che sia la cosa giusta da fare, francamente. Ottimo, la ringrazio. Gianluca Codagnone, Managing Director Fininvest, grazie per essere stato con noi e buon proseguimento. Grazie.